Dopo l'appello lanciato dal SIULP di fronte al commissariato di Fano, tra l'altro lei era presente al SITIN, che cosa è successo in questi ultimi giorni? Grazie al SITIN che ha organizzato il suo responsabile Marco Lanzi del SIULP abbiamo riacceso i fari su questo commissariato che è inaccettabile, che per anni è stato messo da una parte, è stato poco considerato, spesso ha pagato le conseguenze per via della vicino Pesaro quando da Pesaro non vengono pattugli a controllare a Fano. Il SITIN ha fatto sì che io interessassi il mio responsabile nazionale di partito che è il senatore Antonio De Poli e il senatore Antonio De Poli proprio ieri mi ha avvertito di aver presentato un'interrogazione al Ministro. Un'interrogazione importante per il fatto che l'interrogazione mette nelle condizioni il Ministro di dare risposte pubbliche e di prendersi anche degli impegni pubblici e quindi noi contiamo molto su questo. A breve arriveranno agenti a Fano? Allora, io ho avuto notizia che arriveranno altri due agenti a Fano aggregati. Allora, la situazione è questa. Noi sappiamo già, come è stato detto al SITIN, che sono arrivate 14 persone, 14 agenti, tra agenti e sovrintendenti, ma quello è un organico che va a ripianare i buchi mancanti e le situazioni mancanti. Uno è stato mandato alla Polizia Postale, uno è stato mandato al Commissariato di Urbino, uno è stato mandato a Fano e la rimanenza a Pesaro. In più sono arrivati nove agenti aggregati che rimarranno qui fino al 28 di agosto. Di questi nuovi agenti aggregati per l'estate, due dovrebbero arrivare a Fano. Dunque la situazione potrebbe rimanere ancora difficile? Si attende una risposta da parte del Ministro? Allora, intanto preciso che la validità dell'interrogazione è anche il fatto che il Senatore De Poli ha puntato molto il dito sul fatto che questo Commissariato non è stato mai innalzato di livello. Quindi ha chiesto al Ministro che venga avviato l'iter perché il Commissariato fosse alzato di livello. Questo alzamento di livello comporterebbe personale in più, perché questo Commissariato è fermo ancora, un organico che risale agli anni Ottanta, ma le situazioni nel tempo sono cambiate, i servizi sono aumentati, i bisogni sono aumentati, e quindi questo personale non è più sufficiente. Tra l'altro da 44 che dovrebbero essere sono 38. Ecco, quello che voglio dire è che comunque al di là di tutto questo, che speriamo che vada in porto in maniera positiva, noi andremo avanti, questa volta non spegneremo più i fari su questa situazione, perché la terza città delle Marche ha bisogno del suo Commissariato che funzioni e ha bisogno che i suoi agenti siano sufficienti per il discorso della sicurezza. Quindi il controllo e la vigilanza del territorio è estremamente importante. Faremo delle cose andando avanti, sperando che tutto poi alla fine, una volta per tutte, si risolva.